ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale sono pesca92 siamo su elder ring l'altra volta abbiamo trovato queste due campane enormi camminanti molto vicine tra di loro e cosa che non pensavo che erano sparse per il mondo dell'interregno e invece a quanto pare sono vicine allora io vorrei provare ad andare quassù a salire vediamo se in qualche modo ci riesco quello è un boss di nuovo dell'albero madre inquietante allora sai che ti dico qualcuno c'è no Che sasce Ci riusciremo in due Perché oltre il boss Questa volta ci sono anche I ballerini qua Di tap tap Allora il mark è scomparso Quindi Ah eccolo qui Ciao Ha un bastone e una lancia Interessante Ah ce ne sono altri Aspetta solo un attimo Che vochiamo anche l'altro Che vochiamo L'armatura Wow Ok Ok Sono tutti incazzati Mi sa me Wow Ok Ok E poi c'è lui Prova dita Ah ecco Ok Si è svegliato Lo sapevo che saltava Ah 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 Ok Ok Allora il sangue gli fa male Però No 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 Occhio quando salta No occhio anche a sti cosi Madonna quella Quella mazza devastante Ce l'ha con me sicuro? No invece no 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 Ma è assurdo Arrivare ovunque quella cosa Dai Ok adesso spari quei cosi Sì Oh Addirittura Non posso nemmeno fare le vocazioni Ma perché Ecco Oh mamma mia Dai oh Eh no Triple me l'ha fatto Ah Mio dio Ok rompono praticamente tutto Oh Oh mio dio Questa mossa E salta E salta ragazzi Eccolo E' arrivata la morte Così Eh già Eh già Riproviamoci Beh E' sicuramente Piuttosto Rispetto agli altri E' Ah sì Giusto qui Help me Si chiama quello Wow E' arrivato subito Ti faccio Ti faccio l'inchino Amico Ehm Vabbè Così Ha brutto muso Da solo Ma è possibile che Ok Beh lui Fa malissimo Eh Se prende Alle spalle Come Scusa Perché è arrivato Un tipo Dal nulla Occhio Che c'è Quello Attacco Ok Ok Non ho capito Perché Se provo a farlo Adesso Non posso Ovviamente Ma C'era qualcuno Che potevo evocare Qua Vabbè Oh Mio Dio E te pariva Sei veramente Odioso Ecco Ecco Questo ragazzi L'ammazzo Oggi E' Deciso In un modo O nell'altro Questo deve andare giù Allora E' sempre Molto inquietante Comunque Vedere come Come ballano Vediamo Chi ci capiterà In In Kilo Signore Ha due patane Figo E' Non posso evocare Nessun altro Perché prima me ne dava due Adesso solo uno Non capisco questa cosa Mi fa male Comunque Evochiamo anche lui Vedete adesso me l'ha dato Ma perché The mouse Nesci E' Fallstar Col bastone Quindi un mago Interessante Ehi Non sono simpatici Ok Oh wow Per poco Non mi shottava Lo gela Cosa sta facendo Bello Non ce l'ha con me Ok Ma come distrugge tutto Via Ok Vedi Che è andato giù Molto bene Grazie Grazie ragazzi Lacrima spezzata Del velo di magia Lacrima spezzata Del velo di fulmine Del velo sacro Eccole Incrementa brevemente I danni magici Nel balsamo Incrementa i danni Da fulmine Incrementa i danni sacri Molto Bene Molto bene Ragazzi Per questo episodio è tutto Vi ricordo di iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto Se il video vi è piaciuto Mettete un like Ci vediamo al prossimo episodio Ciao a tutti